Benvenuto Antonio, un saluto che è fatto con grande stima perché sei una delle presenze più importanti del panorama letterario e culturale italiano, senza dubbio, internazionalmente noto, ma poi anche da amico perché è tanto tempo che ci conosciamo e quindi nel tirare fuori qualche tuo testo ho trovato addirittura la traduzione che tu hai fatto per il Feltrinelli del Fleur du Mal di Baudelaire con il biglietto, un affettuoso saluto Antonio, quindi sono particolarmente contento di poterti premiare qui a Castelfiorentino nella mia città. Allora ci sediamo, non perché siamo più anziani di quanto finora è passato su questo palco, ma perché ci dobbiamo intrattenere un po', hai un microfono e allora guarda siccome il pubblico è composto anche di giovani, lo sai, questa formula che mi piace molto con partecipazione allargata di pubblico, allora ti faccio una domanda sapendo che tu sei un esperto di Leopardi, faccio vedere questo libro Il pensiero poetante ma ce ne sono altri tantissimi, Il deserto, Il fiore, La curatela delle operette morali per i libri di Garzanti, i grandi libri di Garzanti, insomma tantissimi testi, non sto a elencarli tutti e poi per quanto riguarda Baudelaire oltre ai molti studi questa curatela di questa edizione che si ristampa in continuazione dei fiori del male con traduzione di Antonio Prete che trovate nella biblioteca anche economica, nella biblioteca universale Feltrinelli. Ecco Antonio Prete ha studiato tantissimo questi due autori, sono autori ottocenteschi e io ti chiedo Antonio, vado subito al dunque, che senso ha, perché oggi dedicare una vita come hai fatto tu, oppure leggere, studiare come fanno molti ragazzi, autori come il grandissimo Leopardi e il grandissimo Baudelaire, che sono autori dell'ottocento e però giungono in qualche modo fino a noi, sono anche nostri contemporanei. Bene, allora rispondo subito e brevemente ma permettimi una premessa di saluto e di ringraziamento, saluto a te e di ringraziamento per questa ospitalità in questo bel teatro e anche davanti a queste voci così diverse che si sono composte poco fa attorno alle letture e attorno alla musica. Ma direi che vengo subito alla tua domanda, perché Leopardi e Baudelaire oggi? Perché quando diciamo classico, intendiamo un autore, uno scrittore, un testo, un'opera che continua a parlarci, continua a parlarci al di là del suo tempo. Leopardi e Baudelaire ci parlano al di là del loro tempo, perché in modo diverso ma anche per certi aspetti in modo simile, tutti e due hanno vissuto la propria epoca con grande intensità, cioè leggendo, interpretando, cercando di capire quello che accadeva attorno a loro, a loro volta leggendo quelli che loro consideravano classici e però hanno scritto delle cose che non sono chiuse nel loro tempo, delle cose che arrivano a noi e arrivano con una freschezza, con una profondità che continuano a porci delle domande. Quindi la presenza di Leopardi e di Baudelaire è una presenza che continua e questa è la qualità propria di quello che chiamiamo classico, è colui che continua a essere presente. Potremmo vedere, tu lo sai benissimo, lo posso dire in poche parole per chi ci ascolta, per i ragazzi in particolare, è che per esempio se noi apriamo un canto di Leopardi troviamo delle parole prese singolarmente molto semplici, parole alle volte anche quotidiane, della vita quotidiana. Però queste parole sono composte, messe insieme, sono portate dentro una musica, dentro una particolare sonorità, dentro un ritmo, ma anche dentro un pensiero, dentro un domandare che ci coinvolge, che ci coinvolge e ci fa pensare. Ci fa pensare ma anche ci fa orientare sull'esistenza, sulle cose da dire, da fare, da scegliere. Perché Leopardi diceva per esempio che soltanto, lo dice in un dialogo delle operette morali tra Timandro e Eleandro, Eleandro a un certo punto dice soltanto i libri poetici sono veramente libri che possono giovare e chiamo libri morali soltanto i libri poetici. Perché muovono l'immaginazione. Muovere l'immaginazione significa pensare a qualcosa che sta oltre quello che realmente vedo qui davanti a me. Ecco, Leopardi ma anche Baudelaire usano l'immaginazione per pensare. Pensano attraverso l'immaginazione. E questo è un pensiero che non si ferma lì su quel momento, davanti all'esistente. È un pensiero che va oltre e arriva anche al nostro tempo. Arriva a coinvolgerci, a interrogarci su chi siamo, perché siamo qui, che rapporto c'è fra me in questo momento e la natura e il cosmo. Che cosa vuol dire l'essere qui insieme con gli altri, vivente, tra viventi, in una natura che non la conosco, si sottrae ma la vorrei conoscere meglio e magari non me la fanno conoscere perché viene deturpata. Che cosa vuol dire stare qui sotto un cielo stellato davanti a una luna silenziosa? Ecco, queste sono le domande che poi ci coinvolgono e ci fanno pensare. E per questo, Antonio, tu sei anche diventato poeta, cioè sei partito, sei un letterato diciamo a 360 gradi, no? Sei essenzialmente, diciamo, fin dalla tua partenza, un critico, un critico. Però assieme al critico è venuto poi fuori il traduttore, poi è venuto fuori lo scrittore in prosa, il prosatore, poi il poeta. Forse proprio per quella fiducia che deriva in Leopardi, no? Il valore nel riaffermare un valore morale della poesia. In fondo la poesia è una risposta morale contro quella che Leopardi chiamava l'aspra malinconia del vivente. Insomma, oggi viviamo in un mondo in cui è dato conoscere quest'aspra malinconia del vivente. Ecco, la poesia è un modo di opporsi moralmente molto sostenuto. Per questo tu hai scritto anche delle poesie, insomma, una l'ho pubblicata anche nel blog di Quotidiano Nazionale di ieri, in cui presentavo questo evento di stasera, ed è una poesia in cui ritornano anche grandi temi di Leopardi, ritorna il naufragio che riporta quel celeberrimo finale del naufragarme dolce in questo mare dell'infinito di Leopardi. Ti faccio una domanda così, estemporanea molto, no, un po' da quiz. Tu dovresti dire qual è il componimento, una persona non conosce, né Leopardi né Baudelaire. Cioè, tu gli devi consigliare un testo. Cosa consiglieresti come lettura leopardiana e come lettura baudelaireana? Di Leopardi consiglierei l'infinito, che è il testo della poesia italiana più tradotto nel mondo. Cioè, tantissime lingue hanno tradotto, lingue dei paesi dell'Africa, lingue dell'area indiana, dell'area cinese, tibetana, tantissime lingue hanno tradotto. Quindi è un testo, cioè non possiamo privarci di una conoscenza forte, profonda, direi quasi quotidiana, di un testo così risonante nel mondo. E naturalmente poi se mi fai questa domanda su un solo testo, è analogo alla domanda che si fa, quale libro salveresti? Il gioco della torre. Tutto il resto buttiamo via tutto Leopardi e rimane l'infinito. Perché poi il canto notturno e l'altro... Tra le flair cosa consiglieresti? Baudelaire è una poesia che è conosciuta, ma non tra le più conosciute di Baudelaire. Il Cigno. È una poesia non brevissima, divisa in due parti, ambientata nella Parigi, sta nel cuore dei Fiori del Male, la Parigi di pieno 800. Siamo negli anni 50 dell'800, i Fiori del Male escono nel 57, la prima edizione. Baudelaire scrive questa poesia guardando la città che sta cambiando. Questa poesia inaugura la poesia metropolitana, la poesia cittadina, non più la campagna, la natura, eccetera, ma quello che è davanti a noi quotidianamente, la città che cambia, Paris Change. C'è il cantiere aperto, c'è questa trasformazione dei vecchi soborghi in grandi boulevard, la riforma urbanistica del prefetto Osman che ha soppiantato, ha demolito i vecchi soborghi medievali e ha fatto costruire i grandi boulevard per impedire anche il formarsi delle barricate, questo dopo il 48, perché nelle strade strette si formavano nelle rivolte le barricate, i boulevard impediscono le barricate. Ecco, ma cosa accade? Baudelaire descrive il tumulto di questa città, il passaggio, le figure, eccetera, e a un certo punto c'è un cigno, e il mattino c'è un cigno che è sfuggito dalla sua gabbia, mentre è trasportato fuori dal suo ambiente naturale. Ma questo cigno gratta il pavè asciutto, secco, con le zampe palmate e alza il becco verso il cielo impurando la pioggia. Dietro il cigno si apre una specie di corteo di figure. Una ragazza nera che è diventata tisica, che guarda la nebbia e al di là del nebbia vede l'Africa lontana, è grandiosa, sogna la sua Africa. E così orfani, gente presa dal dolore, tutti quelli che sono stati dimenticati, a un certo punto è allontanati dalla città. A un certo punto c'è nella foresta, in questa foresta della dimenticanza, un personaggio e le souvenir, il ricordo personificato, che prende un corno, come il cacciatore che suona e chiama a sé tutto quello che è stato dimenticato e allontanato da che cosa? Dalla città nuova, dalla modernità, da quello che sta accadendo. Ecco, la poesia ospita, la lingua della poesia ospita tutto quello che la civiltà dimentica, che la città è margina, che la civiltà tiene lontano e vuole abbandonare. Ecco, questa è una grande poesia perché è dentro la nostra società, dentro il nostro mondo. La lingua della poesia è una lingua che ospita ciò che la civiltà ci fa dimenticare e ci fa abbandonare. Si dice Baudelaire fondatore del moderno, ma nel moderno è in senso poetico, non registrare. Baudelaire capisce perfettamente il moderno, fonde il moderno, ma allo stesso tempo critica la modernità in certi aspetti. Cioè ci dà la modernità nella sua interezza, in fondo lo sguardo della poesia è questo. La poesia ha questa funzione, non di separarsi dal proprio tempo. Leopardi diceva la poesia non è mai contemporanea al suo tempo, non è mai contemporanea. Perché la poesia attraversa il tempo e guarda oltre, e guarda nel tempo quello che accade ma anche ha il presagio, ha a che fare anche in qualche maniera con quello che chiamiamo profezia, non dal punto di vista sacrale, ma dal punto di vista di una sorta di accento su qualcosa che non si vede, che non c'è. Lo stesso Baudelaire diceva la poesia è quello che c'è di più reale. Essa è vera soltanto in un altro mondo, dans un altro mondo. Quello che c'è polemizzando con quelli che si chiamavano realisti, c'era una grande polemica allora come poi in tante altre epoche successive, sul realismo. Bisogna essere realisti, descrivere le cose così come sono, come ci appagliano, come stanno. Baudelaire diceva ma la poesia è quel che c'è di più reale. Essa è vera soltanto in un altro mondo. È uno sguardo più complesso. Cioè questo è un altro mondo, è l'indicazione appunto di non fermarsi sulle apparenze, sul visibile, su quello che sta qui davanti a me, di leggere attraverso, di leggere dentro, di leggere fuori e oltre. Ti vorrei domandare, rimanendo sempre su Baudelaire che tu hai tradotto molto bene, ci hai lavorato tantissimi anni, lo hai studiato, ci sono raccolte di saggi, ma insomma questo è il tuo libro indice, la traduzione che dicevo, presente nella collana, nell'universale economica Feltrinelli dei fiori del male. Ecco, ti sei occupato poi anche teoricamente del problema della traduzione, no? In molti saggi proprio di tipo teorico, proprio dedicati a questo problema. E poi hai messo in pratica, diciamo così, un tuo modo di vedere il problema della traduzione con queste versioni, molto riuscite, ricordo la poesia dell'Albatros, no? Che tu hai reso molto bene, anche con l'uso delle rime che creano una musica vicina a quella dell'universale. Ecco, ci vuoi dire sinteticamente, rapidamente, che cosa consiste? L'arte del tradurre, che è un'arte difficile, secondo alcuni impossibile, perché una poesia che nasce in una lingua non sembrerebbe travasabile se non in quella stessa lingua e non in altri termini di quelli in cui è stata espressa, no? E invece, come ci dicevi, l'infinito di Leopardi rimane, forse, l'infinito anche in lingue a noi distantissime, di tradizione a noi lontane. Infatti, dicevi bene, Marco, arte del tradurre. Ecco, bisogna parlare di arte del tradurre, non di traduzione. La traduzione è la scrittura, la traduzione è scrittura, la traduzione è poetica e poesia. Implica gli stessi procedimenti, che si hanno nella scrittura narrativa o poetica. Dunque, troppo poco in un paese come l'Italia si considerano i traduttori e si considera il lavoro del traduttore. Si considera un lavoro secondario, di servizio, grandi traduzioni di narrativa, di grandi romanzi, di classici, sono mal pagati, sono considerati qualcosa molto diverso dall'atto dello scrivere. Invece la traduzione è scrittura. Dunque, sì, il discorso, come puoi immaginare, sarebbe lungo, ma cerco proprio di dire brevemente quello che secondo me, quello che ho potuto così, intendere attraverso le fatiche della traduzione. Cioè, la traduzione è un atto di espropriazione di qualcosa di proprio, espropriare vuol dire togliere il proprio. Uno che traduce un poeta toglie quello che il poeta ha di più proprio, che è la sua lingua. Che cosa c'è di più proprio per un poeta che è la sua lingua? Eppure il traduttore toglie al poeta quello che lui ha di più proprio, la sua lingua, per dargliene un'altra, la lingua di colui che traduce. Però questo atto così apparentemente, inizialmente violento, di espropriazione, è via via compensato dalla nascita di un amore. In qualche maniera, colui che traduce si abitua a convivere con l'autore che traduce, entra in un rapporto profondo di conoscenza minuziosa, di tutti i particolari. Tradurre come l'occhio del critico, così anche l'occhio del traduttore. A un certo punto questo atto iniziale si trasforma in una grande ospitalità nella propria lingua di colui che viene da lontano, che appartiene a un'altra lingua. Entra nella lingua di colui che traduce e si crea un dialogo, si crea anche uno scambio. Anche colui che traduce riceve moltissimo, perché mette in gioco la sua lingua attraverso la lingua dell'altro e conosce se stesso attraverso l'atto del tradurre un autore. Dunque, la traduzione è qualcosa di complesso. È l'abbattimento di un edificio di una lingua, ma la costruzione di un altro edificio in cui il primo edificio ricompare con altra materia. Leopardi, per tornare a Leopardi, parlando della traduzione, dice che è come se si trattasse di rifare un oggetto, un vaso, un oggetto d'arte, rifarlo da una materia in un'altra materia. Mi trovo davanti a un oggetto che è di vetro e lo rifaccio però con un'altra materia. Ma deve avere la stessa qualità, il più possibile, a parolsi di poesia, lo stesso timbro, le stesse sonorità. Naturalmente questo è un cammino difficile, ogni traduzione non è che un esercizio. Ma quando un traduttore è bravo come te, almeno come lo sei stato, per Baudela... Non si arriva mai, è sempre imperfetta, ogni traduzione è imperfetta, è solo un tentativo. Ci dai una prova di imperfezione. Però si sta dentro questo cammino, dentro questo tentativo, è importante starci dentro. Dunque, leggo, appunto ha citato l'Albatros, perché i ragazzi forse conoscono... Conoscono tutti, lo conosce anche il nostro sindaco, che una volta ebbe modo di citarlo, ovvero in una sua presentazione di un'edizione del premio, quindi, ma poi è una poesia nota a tutti, insomma. Quindi è bello sentire come tu l'hai visto. Il verso è l'alessandrino francese, un verso del teatro, visto che siamo in un teatro, non posso che dire, che nominare un verso teatrale, perché è il verso della comedia, della tragedia e della commedia francese, e quindi il verso di Rassini, di Molière, di Cornelie. Baudelaire prende spesso questo verso classico, però lo usa in una maniera sovversiva, lo stravolge, lo usa per dei contenuti che non sono quelli della classicità cinquecentesca e secentesca. E però in italiano si tratta di rendere, dare anche questo tipo di cadenza, di rispettare il più possibile questa sonorità. Perché il verso alessandrino ha la scesura in mezzo, cioè ha una pausa molto forte in mezzo. No, sale e poi scende e ha due grandi, ha una specie di, quelli che si chiamano ictus, cioè un primo ictus sulla prima parte e poi un secondo sulla seconda parte. Souvent pour s'amuser les hommes d'équipage. Sentite, souvent pour s'amuser les hommes d'équipage. E dunque si tratta di rendere, e devo dire, questo è un fatto proprio, se mi permetti, personale, così lo dico perché c'è l'occasione dell'Abbatrosso. Quando ho presentato questa traduzione, la prima volta a Milano, quando è uscito il libro, alla libreria Fettrinelli, ho avuto una sorpresa, un regalo che avevano organizzato degli amici. Un gruppo musicale, Tête des Bois, alcuni di questi gruppi, sono venuti a cantare l'Abbatrosso in francese, messo in musica da Léo Ferré. Léo Ferré ha messo in musica 22 poeme di Fiori del Male. E poi, hanno detto in francese, e poi quando ho presentato, come così, era un omaggio che mi facevano, quando ho presentato il libro a Roma, lo stesso gruppo è venuto a cantare l'Abbatrosso nella mia traduzione, e mi hanno detto, non abbiamo fatto nessun arrangiamento così come il testo francese, e abbiamo messo il testo italiano. Questa era la migliore critica che un traduttore poteva aspettare. Vedete che la musica c'entra molto con la sua esigenza. Lo avevo detto perché parlavamo, parlavate di musica, e appunto quando si traduce bisogna tenere presente molto la musica. E se, appunto, questo ritmo bisogna che in qualche modo per l'Abbatrosso sia rispettato. Allora, leggo la traduzione. Spesso per divertirsi, uomini d'equipaggio catturano degli albatri vasti uccelli dei mari che seguono, compagni indolenti di viaggio, il solco della nave sopra gli abissi amari. Li hanno appena posati sopra i legni dei ponti, ed ecco quei sovrani dell'azzurro impacciati, le bianche e grandi ali, ora penosamente, come fossero remi strascinare affannati. L'alato viaggiatore, come maddestro e fiacco, lui prima così bello, come ridicolo ora. C'è uno che gli afferra con un'arpipa il becco, c'è un altro che mima lo storpio che non vola. Al principe dei nembi il poeta somiglia, abita la tempesta e dell'arciere ride, esule sulla terra in mezzo a ostili grida, con l'alida gigante nel cammino si impiglia. Questo è un applauso che condividi con Baudelaire, quindi insomma è un grosso complimento che facciamo alla traduzione magnifica, ma anche alla bellezza del componimento, che giustamente è studiato anche nelle scuole, è un test notissimo di Baudelaire. A questo punto io Antonio ti leggerei perché ti premiamo, una motivazione scritta, naturalmente è una motivazione sintetica, non si potrebbero dire tutti i motivi per cui valeva la pena farti conoscere qui agli amici di Castelfiorentino. Comunque noi ti abbiamo catalogato così come motivazione di un genere che è la motivazione del premio. Il premio letterario Castelfiorentino riconosce Antonio Prete, una figura di critico scrittore tra le maggiori del nostro tempo, studioso di alto profilo, Prete è internazionalmente noto per i suoi notevolissimi studi sull'opera di Leopardi, a cominciare dal pensiero coetante, il suo libro più famoso, e di Baudelaire, di cui ha tradotto, ormai lo sappiamo, l'abbiamo detto più volte, i fiori del male. Comparatista, insignia, autore di numerosi saggi sulle forme e le figure di rappresentazione di alcuni sentimenti chiavi della letteratura europea, Prete impresta all'esercizio critico le sue doti di scrittore, mescolando originalmente riflessione e narrazione, rigore analitico e capacità evocativa. Poeta tra i poeti ai quali ha dedicato il suo costante impegno di traduttore, Antonio Prete è inoltre autore di significativi libri di poesia come Menhir, che riporta le tue origini pogliesi, si sa Lentine, e Se la pietra fuorisce, opere in cui, nella concentrata musicalità, vedete, ritorniamo alla musica del verso, riprende il dialogo fra l'universo naturale e un ordine geometrico di corrispondenze, che leopardianamente riafferma con straordinaria efficacia, tra finitudine e infinito, il valore morale della poesia contro l'aspra malinconia, come diceva Leopardi, del vivente. Quindi, grazie di essere fra noi e un applauso a Antonio Prete. Grazie. 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 Grazie.